Sono tre gli arrestati da parte dei carabinieri all'interno di un'operazione che riguarda delle accuse molto pesanti, estorsione, sequestro di persone e favoreggiamento personale. Dei tre arrestati, l'unico in carcere FLG di 33 anni, sempre di Mussomeli, e invece gli altri due arrestati CV, suo cognato di 22 anni ed un altro complice TP, parente di uno dei principali indagati, sono invece agli arresti domiciliari. La vicenda è accaduta a Mussomeli. I tre avevano preso di mira un giovane vessandolo continuamente e appunto per restorcergli del denaro. Gli indagati avevano una precisa e lucida volontà, scrivono i carabinieri, di perseguire un illecito profitto e manifestavano un'elevata inclinazione a delinquere, adoperandosi con ogni mezzo a loro disposizione, con violenze verbali, fisiche, consistenti in gravi minacce, oltre a schiaffi e pugni, fino ad episodi di privazione della libertà personale, del giovane malcapitato che veniva costretto a subire le loro insistenti vessazioni. Tutto nasce da un'indagine da parte dei carabinieri su un presunto spaccio di sostanze stupefacenti che poi ha fatto affiorare la vicenda. Dopodiché i soggetti arrestati non esitavano neppure a falsificare la data di redazione di un verbale di perquisizione e sequestro, proprio del comando dei carabinieri di Villalba, per trarre in inganno la loro vittima e distorsegli del denaro. Nel corso delle attività di indagine è stato anche scoperto il coinvolgimento di questa terza persona, che è stata poi arrestata e, come si diceva, parente di uno dei principali indagati, che si è adoperato ad aiutare uno degli indagati a deludere le investigazioni in corso. E dunque anche lui è stato tratto in arresto. Grazie. Grazie.